Melucci e Musillo parlano del loro tour elettorale nelle varie zone della città. Io non ho bisogno di fare questo tour perché 21 anni di attività giornalistica, 21 anni di denunce contro l'invivibilità urbana contro il degrado urbano sono il mio miglior biglietto da visita che presento agli elettori. Conosco la città, il centro e le periferie come le mie tasche, le suole delle mie scarpe si sono consumate girando qui e lì appunto per il territorio tarantino. Ci troviamo qui nella contrada San Donato a Talsano e voglio farvi vedere la strada chilometri e chilometri, questa è solo una parte di strada, strade ma assolutamente non asfaltate, terra battuta, pietre, brecciolino, vedete qui cosa succede quando piove. Questa è solo una prova ma proprio nella proporzione della millesima parte proprio per farvi vedere il fango, l'acquitrino che si determina. Guardate qui le immagini sono molto chiare. Chilometri e chilometri di strade appunto che sono a disposizione della collettività quindi si tratta appunto di strade di accesso pubblico e quindi l'amministrazione comunale avrebbe dovuto provvedere ad asfaltarle, a renderle fruibile visto che appunto sono nella piena disponibilità di tutti come aree, come strade appunto aperte al transito. Tanto è vero che ci passano anche i mezzi dell'AMIU per la raccolta dei rifiuti. E' assurdo che questa gente che paga le tasse si trovi in una realtà assurda, sembra di stare in aperta campagna eppure parliamo di cittadini di Taranto che pagano regolarmente le tasse, che pagano le tasse per avere dei servizi e scusate quando piove come devono uscire con gli stivali, con il canotto, oltre al fatto che ci sono anziani, ci sono persone disabili che chiaramente rischiano di cadere visto appunto la strada completamente dissestata e sembra un percorso di guerra. Quindi un'assoluta disattenzione, un menefreghismo da parte dell'amministrazione Melucci-Musillo nei confronti di queste aree. E hanno pure il coraggio ora di andare a chiedere il voto. No, non è un errore che ho nominato Musillo, è la pura verità perché il signor Walter Musillo, saltatore di quaglia, passato dal centro-sinistra al centro-destra, ha amministrato la città con i suoi uomini, con i suoi rappresentanti, nelle ingiunta e nelle partecipate, ha amministrato Taranto. Sua cugina era assessore del comune di Taranto. Quindi Musillo ha gravi responsabilità politico-amministrative al pari di Melucci. Erano appassionatamente uniti in questa vergognosa situazione di degrado che ammorba Taranto. Guardate, parliamo di strade che si snodano per chilometri e chilometri. Peccato perché queste persone hanno investito costruendo villette, costruendo abitazioni e si trovano praticamente prive, assolutamente prive di servizi. Si sentono cittadini di serie C, non di serie B ed è grave che questo accada. Io gestirò la città come un buon padre di famiglia. I cittadini sono tutti uguali, dal centro all'ultima delle periferie. Questo significa amministrare. Per questo vi chiedo il voto. Ho dato sempre voce a chi non aveva voce, anche alle estreme periferie, soprattutto alle estreme periferie. Per Taranto ho sempre lottato. Non è solo il mio slogan, è la storia. Basta vedere il mio sito, basta vedere le migliaia di servizi che ho realizzato. Dalla parte del cittadino, sempre, per 21 anni, da giornalista, da giugno, da sindaco.